Don't stop me, cause I'm having a good time, having a good time! I'm a shooting star leaping through the sky, like a tiger defying the lords of gravity. I'm a racing car, passing by, like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 dance no stopping me. Si inizia con la danza, si prosegue con un cartellone tra classica e commedia. È la nuova stagione del Concordia, il teatro di San Benedetto del Tronto, realizzata con Bib Tronto e Amat. Tra le novità, repliche per Moliere e Goldoni, la volontà è quella di aprire le porte del teatro a tutti, tornare a fare un po' di fila, preparando le poltrone e non solo agli abbonati. Non sarà prevista la prelazione sul posto a quelli dell'anno precedente. Sette titoli, di cui tre sguardi a testi classici di grande interesse, che tornano appunto a raccontarci le loro verità, insomma la capacità di raccontare anche il nostro presente e poi commedie e sguardi al contemporaneo, un bello spettacolo di danza d'apertura, quindi insomma un'avventura davvero da molti colori. Riportare San Benedetto al centro della realtà culturale provinciale e marchigiana e con la collaborazione del BIM, dell'AMAT, siamo riusciti in un intento fondamentale, qual è quello di aprire il teatro, renderlo fruibile a più persone possibili, dando la possibilità, sebbene in una fase di sperimentazione, di usufruire di due repliche, cosa che non era mai accaduta a San Benedetto, e con delle altre novità che ci permetteranno di aprire il teatro e renderlo fruibile a più persone possibili, a più cittadini possibili, a più giovani possibili, dando anche e soprattutto un'offerta variegata.